Quello del Novara, parte Galuppini col mancino, pallone che rimane sotto, verso Bonaccorsi, calcia, trova solo il corpo di Delfrate che... Un nuovo innesto dal punto di vista difensivo per il Novara, Bonaccorsi aveva calciato, aveva trovato il corpo di Delfrate e ora... Pablo González che sembrava pronto a subentrare, deve mettere nuovamente la felpa o invece no? Rocca sta andando verso la panchina di Mr. Marchione per chi ha...